Ma cosa stanno facendo in questo video? Si tratta di un'operazione chiamata calettamento criogenico. Questo metodo di assemblaggio implica il raffreddamento di una parte a temperature molto basse, generalmente inferiori ai meno 100 gradi centigradi. A queste temperature estreme, i materiali si contraggono e si restringono. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, le parti vengono assemblate e lasciate tornare a temperatura ambiente e alle dimensioni originarie, creando una connessione molto stretta e stabile. Il calettamento criogenico è utilizzato in applicazioni che richiedono una connessione solida e duratura tra componenti, come nell'industria aerospaziale e automobilistica. Se vi piace la tecnologia e la meccanica, allora iscrivetevi ad Ingegneria Italia!